a grande richiesta torna su questi schermi il format viaggio con le mamme arrivati a casa blanca guarda che siamo il parque de la lingua arabo c'è spugli di plumbe e ago che richiamano la fontana plumbe e ago plumbe e ago e le sterlizie probabilità di cagata addosso niente la terry l'abbiamo persa perché ha trovato qualcuno con cui parlare italiano e l'abbiamo persa per sempre la terry l'abbiamo persa cagata la terry l'abbiamo persa per sempre mamma passione cimiteri però effettivamente molto bello passeggiatina di prima mattina a Rabat e poi si parte verso nord guardiamo un po' i surfisti di prima mattina eccoci finalmente a ship chowen ciao 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 dopo un percorso alquanto turbolento i nostri eroi sono arrivati a Fes e si stanno dirigendo a Riad questa notte bravo Mattia bravo Mattia ciao 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 allora abbiamo prosciugato praticamente i marocchini che ci hanno venduto due giacche alla fine per sfinimento e due cinture qui fa parte del gioco ecco e adesso continuiamo il nostro giro tutti felici delle nostre compere le mamme non si capacitano del fatto che questo sia l'ingresso dell'uomo il nostro albergo e poi dentro ci sia il mondo ciao ciao la ciurma in direzione marrakesh la medina vuota ha comunque il suo fascino il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Allora siamo arrivati a Marrakesh e le mamme sono già drastiche con le parole. Non gli piace. Volevano i primi giudizi. Primi giudizi però dice Mattia. Vedremo come continua. Il giudizio della mamma dopo aver visto i serpenti non può che peggiorare. Anche il marocchino del posto rideva della trattazione della mamma. E niente, le ha tirati scemi anche questa volta. Continuiamo con un'impresa. Non posso uscire di qua.